Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul minecraft lagosissimo Ma non è colpa nostra No è colpa nostra perché l'abbiamo deciso noi che sia lagoso Infatti sto computer sta morendo Di caldo come tutti noi E poi soffre perché deve tirare tutta la sua potenza Esatto, comunque oggi abbiamo deciso di provare questa mega texture Che in verità sono tre texture perché ti faccio vedere Ce ne sono tre della Redcraft Probabilmente alcuni la conoscono Noi ci sono questi due cosi che si aggiungono Che aggiungono tipo la profondità, effetti Più le shaders ovviamente E il gioco sta andando Che utilizziamo le cuda Usiamo le cuda che sono le solite nostre E il gioco ha malapena E facciamo vedere tipo cosa abbiamo in sto pc Sì, come puoi farlo vedere? Ah ecco, vabbè sì Così almeno vi fate un'idea Se potete provarlo sul vostro pure no Esatto, parliamo di un i7 con scheda video e tutto 16 giga di RAM di cui ne ho dati ben sei A Minecraft me ne sta mangiando 4,3 Bello Bello Ci sono giochi che non ne mangiano neanche due Comunque questo è il risultato Più che altro la terra non si nota granché Cioè si nota sta erba che Sembra una foto L'erba fa schifo questa qua Sì non è un grande I fiori anche I fiori sono gli stessi I fiori Sembrano sbagliati Non è questa passione per i fiori Non ci pensano neanche a modificarli i fiori Lasciano così Ma la sabbia La sabbia raga Cioè guarda qua Che figata L'acqua ha anche Sì Ovvio il risultato sarebbe ancora meglio Ci sono anche le particelle Le bollicine Sì che figlio Ma noi invece ne siamo uguali È acqua frizzante Perché Il pollo Il pollo è uguale Il pollo è anche questi Non sono uno di tocca No 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 Sei brutto comunque Mi spiace Ma la terra Però guardate Vedete che c'è tipo C'è questa cosa che fuoriesce Esatto che in verità Non fuoriesce Ma è tipo un'illusione ottica Che fa in modo che lo sia Perché vedi Se guardo dall'alto Non c'è niente Non c'è niente Però se guardi Da una certa angolazione Sembra che C'è questo muschio qua Sta roba Esatto che fuoriesce Poi è tutto lucido Sembra boleoso Non so come dire Però è figo È figo ovvio Ma è ingiocabile Sì esatto È questo che volevo dirti Che secondo noi Almeno Credo che sia Quella più pesante Che abbiamo mai provato Ne avevamo provata Un'altra raga Guarda qua Però non era Questo livello Madonna Cioè ti viene voglia Di soccarlo Sembra vero Sembra che sto vedendo Un video Perché guarda Qua la ghiaia È identica A una vera È pazzesco È assurdo Poi l'acqua Non ne parliamo Anche Se si muovesse Un po' più Esatto Però le bollicine Non sono tanto realistiche No le bollicine Sono state messe Tanto per Però purtroppo Non potevo toglierle Allora proviamo altri Iniziamo diciamo Dai primi No invece Per prenderli così Ok sperando che non muoia Prendiamo il granito Che wow Che wow Mettiamoci al sole Guardate Cioè ci sono pure Queste Le crepe Esatto È assurdo Vedi che è tutto Poroso Tipo ti viene Passarci la mano E grattarti Come un cagnolino Esatto Ti gratti la schiena Che poi invece è normalissimo Un blocco E basta Bellissimo raga Mentre questo Queee Wow Questo Madà Bellissimo Poi il bello Che di resource pack Ce n'è un'altra Che è ancora peggio Di questa Però purtroppo Era pagamento E chi paga Per una resource pack Che poi non puoi Neanche giocarci Perché se funziona A malapena Funziona questa Quindi figurati Ma guarda il legno Il legno è spaventoso Gente c'è assurdo Che è tipo lucido E pulito Ma proprio Cioè non so come dire Sembra lì Realissimo Non so È una cosa Poi voglio provare Sai cosa Dopo che abbiamo visto Un po' di blocchi Non a costruire una casa Non a costruire una casa Ad andare su una casa Già fatta Tipo magari Un bunker O qualcosa Salvato Qua tra i salvataggi Di quelli che abbiamo fatto Vedere come sono Con sta resource O un villaggio E se metti gli scalini 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 Ah sì In inglese Scalini Mettiamo lì un po' Di tutti i materiali Tipo Sì È tipo un legno Mentre quel di pietra Eh Sì Ci sta Però Forse rende Di più con la lastra Esatto In questo caso Proviamoli un po' tutti Tipo questi Non ho più spazio C'è troppa erba Oddio Belli Questi sì Ci stanno Che fighi Bello Stupendo Droppate like Raga Per questa shader Più texture Più texture Potentissima Che probabilmente Non la farò mai più partire Perché ha rovinato il computer Farla partire Probabilmente Le foglie mi sembrano Normali O sbaglio No mi sa che sbaglio No no sbagli Sì vabbè Però sono bruttine Non è Non è niente di che Insomma Questo se ne sono dimenticati No è un po' di foglie Disegnate Su un blocco trasparente Ciao Quello è Tra l'altro Questo non so manco Se sono foglie Sembrano fiorellini verdi Bella Oh mio dio E spongebob E' bellissimo Ma che figo Ti viene la voglia Di buttarci dentro Madonna Spettacolo Wow Bagnata Si vede l'acqua E' stupenda Stupendo Ragazzi E' bellissimo Ah voglio vedere il tronco Dall'alto Vuoi vedere il tronco Wow Oh mio dio Guarda quanto fuoriesce Sembrano bolle Poi guardi E non c'è niente E' pulitissimo Raga C'è Wow Fa paura Posso cosa dire Penso che la pianura Sia l'ambiente più schifoso In cui abbia Ammirare questa texture Tipo guardiamo qua Che già ci sono un po' più di alberi E già sta iniziando a laggare Ancora peggio di prima No no Vai Vado via Perché qua Guarda Guarda rischiamo Rischiamo che ci cresci il gioco Guarda lì che lì c'è l'acqua Vediamo sto panorama Che Che non si carica Esatto Non carica Ma perché ho messo distanza minima Sì sì E la distanza minima ragazzi Sta laggando Incredibile Anche i libri La libreria E i minerali E la TNT E tutte queste cose Tipo vediamo La chest Normale Normale Insomma Guarda col travutto Che figo Ma la sabbia Raga Cioè dai Guarda qua che fuori esce il pezzone Di Ah Che figo Esce proprio il pezzo di minerale Dalla Wow Che roba È impressionante E vabbè E vabbè Wow Si vede proprio Esatto Si vede proprio Sto pezzo di legno Che è più avanti Rispetto alla Wow All wow All wow No parole Cioè ci sono rimasto malissimo Ho detto Fare questo video anche da muti Perché la stessa Ho detto Vabbè Che vuoi che sia Sta texture pack Poi l'ho provata Ma è proprio la cosa della profondità Esatto Sì 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 Wow Wow Veramente E cose tipo il vetro Vabbè che del vetro C'hai poco Da infatti È uguale Identico Qualcosa di più particolare Le scale Vedi che Sono abbastanza realiste Sembra Sì aspetta Fammi mettere Tra l'altro Time set 8000 Per averlo un po' più decente Ah qua non posso metterle Vabbè lo mettiamo qua sopra No Non l'hanno neanche toccata Sta zucca Va bene così Fa schifo E neanche le scale No Mi dispiace L'area ne sgama Nei sbagliati due di due Sì scusate I muretti I muretti Aspetta anche questo Dove sono i muretti Il faro mi sa che In cambio Vabbè No ci sta Ci sta dai È come le scale Di roccia Sì ma tipo Fallo più Unisce C'è sto coso qua Che le rovina Sembra tagliato In pezzettini Come il cioccolato Le barrette Qua Vabbè un ingudine Porosissimo Che è giusto È giusto È giusto Qua che abbiamo Questo è La terracotta Quella indurita Esatto Eh beh Beh ci sta Ci sta dai raga La lana vorrei vedere Tipo wool Wool Che sembra abbastanza Dicente Sarà righe Infatti E' un tappeto L'ultima cosa Io direi poi di cercare appunto Una costruzione Vedere come Oh le becco solo io Dai devi beccarne una buona Prima di passare ad altro La paglia La paglia Ora non succede niente Dai Ma serio Ma come La paglia Questa è tipo una challenge A trovare i blocchi non modificati Lari stai vincendo Cioè è assurdo Il piccone Ste cose No Oh la magma block No secondo me è incambiato Perché qua è uguale Lari Uno Devi beccarne Uno Non sto chiedendo L'arenaria L'arenaria è sicuro Ma è come la Wow Ci sta Ci sta Dai ora direi di andare come conclusione A vedere una nostra costruzione O una costruzione O un villaggio Sì Ok non abbiamo trovato Le nostre I nostri bunker Perché erano sul realms E non poteva entrare sul realms Perché era una versione più vecchia Quindi abbiamo trovato la vecchia vanilla Sì Che è sicuramente meglio E Fantastico Guarda il pavimento Guarda ste lastre Che siamo dimenticate di vederle Tra l'altro sta laggando In un modo assurdo Come se fosse fermo I tronchi raga E Spettacolarsi Spettacolo Il castello Wow Wow Non ho parole Vole veramente È una cosa assurda Sì qua A causa della shaders Raga Purtroppo non rende tantissimo La luminosità Esatto Non è Sì Avrei preferito Che la shader Non so Fosse un po' più Meno Difettosa Qua Sta lana È stranissima Sì infatti Tappeti 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 C'erano i tappeti Là Vabbè È come la parte superiore Della lana Ci sta Ma tutto il re Guarda C'è Oh vai Vai dalla cosa delle cascate Anche Aspetta Andiamo anche alla taverna Che non si vede niente Infatti No Non rende Mannaggia Parte sotto Neanche Perché il quarzo Non ha toccato Vabbè Qua insomma Quel che è Si nota Ma finché non sei vicinissimo Non si nota il dettaglio Della cosa che fuoriesce Si nota Tipo il pavimento Vedi Qualche lucidissimo Sembra che abbia piovuto E qui Bello Ebbè 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 Impazzisco Figo Figo Ah no Il quarzo l'han toccato Eh si Ragazzi Il quarzo È Spettacolo Vabbè Che non si vede Perché ombra A sto tempio È sempre stato costruito In una zona In cui non si vedeva niente Ma Ma ci sta Figo Ci sta Ma ci sta tutto Ah direi questa parte No Per concludere Per concludere Questa Che vabbè Peccato per sto lag Ma non ci possiamo fare niente Qua era da fare Tipo un trailer Di sto mondo Della vanilla Con tutta sta Se non laggasse Sarebbe fantastico E Wow Niente da dire Ragazzi È da concludere qui Perché se no Ci impazzisco Poi adesso che torna Al minecraft normale Con la testa Che schifo Vabbè Comunque Ragazzi Speriamo che questa Texture Queste tre texture Pack Più questa shader pack Più tutto il resto Che c'era Vi siano piaciute È impossibile Farle girare Su un computer Normale Quindi Vabbè Noi vi metteremo Il link In descrizione Se proprio volete Farvi male Ma Vabbè Provate Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Ricordate di farlo Like Si iscrivetevi Ci vediamo In questo video Ciao